Raffaele Pastore, direttore di studi ricerca UPA, ci parla di cultura. Cosa ne pensa della legge Art Bonus? L'Art Bonus è uno dei più importanti strumenti di finanziamento del patrimonio artistico e culturale italiano. Penso che sia il tax credit più importante d'Europa. E' stato avviato in fase sperimentale, come ha detto il Ministro, nel 2016 dove mette a stare il boom perché le imprese a poco a poco stanno imparando ad apprezzare questo strumento per fare entrambe le cose, cioè investire in cultura e contribuire al patrimonio anche economico del nostro Paese. E' responsabile di upapelacultura.org e cosa ci dice di questo progetto? E' un progetto complementare, se vogliamo, a quello di Art Bonus. Guardano entrambi alla stessa direzione ma in maniera complementare. L'Art Bonus dà alle imprese uno sgravio fiscale, upapelacultura.org e consente alle imprese di sfogliare un catalogo di progetti di finanziamento culturale che consentono di avere dei progetti integrabili nei propri processi di comunicazione. Perché sul sito di upapelacultura.org gli enti possono iscrivere, possono candidare i propri progetti di sponsorizzazione culturale ad una sponsorizzazione appunto, però seguendo delle indicazioni che fanno riferimento all'impatto di comunicazione di questo progetto. Quindi rispondendo alle esigenze delle imprese che devono investire in comunicazione. Quindi da una parte possono scegliere di essere abbecenati e di avere un incentivo fiscale, dall'altra possono scegliere invece di integrare un progetto culturale nell'ambito delle proprie strategie di comunicazione. Grazie.